Dove non sono arrivati i computer e i sistemi di sicurezza informatici è arrivata la mano dei sanitari che in queste ore hanno usato moduli, carta e penna per evitare di utilizzare i pc sotto attacco. È partito nella notte l'attacco hacker contro cui stanno lottando i tecnici dell'USS a Euganea. Disaggi si sono registrate, le visite specialistiche, i laboratori di analisi. Anche i centri vaccinazione ne hanno risentito. In fiera al padiglione 6 la piena operatività è ripartita a metà mattinata. In prima linea i servizi informatici dell'ULS. Nella notte ci sono stati due attacchi ransomware di tipo crypto locker. Siamo in stretto contatto con la polizia postale per collaborare sulle indagini e stiamo lavorando al fine di ripristinare il backup e per rendere nuovamente tutta l'infrastruttura disponibile all'utenza il prima possibile. Come tutti gli attacchi prudenzialmente determina delle disfunzioni disfunzioni che prudenzialmente abbiamo comunque affrontato di fatto chiudendo tutti i sistemi informatici che potevano e che possono essere stati interessati. Questo ha lo scopo di non perdere dati e di non perdere informazioni importanti. Disagio anche nella sanità territoriale a partire dai medici di medicina generale che non riuscivano a inserire le richieste per i tamponi di tracciamento nel sistema, disagio nelle farmacie dove non comparivano i medicinali da consegnare o le difficili per gli operatori sanitari a cui va il grazie del direttore generale. Per fortuna la sanità è fatta da relazioni e quindi da medici, da infermieri, da operatori che lavorano e che continuano a lavorare indipendentemente comunque del sistema informatico. Ed è importante appunto sottolinearlo proprio perché vuol dire che il pronto soccorso, le vaccinazioni, tutto quello che di fatto stiamo facendo, pur facendo in maniera più lenta, quindi a mano perché ovviamente i computer ci aiutano a velocizzare, a rendere diciamo più agevole qualsiasi operazione, comunque noi le stiamo appunto facendo. Tutto questo in un momento delicatissimo. Sono più di 800 i positivi nelle ultime 24 ore a Padova e provincia, ma stanno riprendendo anche le vaccinazioni che nella giornata di giovedì hanno toccato cifre che non si vedevano da tempo, 9.200 complessive con 650 prime dosi. Grazie.